Fare una mostra e fare una cosa bella non è fare una guerra. Penso che questo film abbia ogni tanto avuto profili quasi da commedia dell'assurdo, da commedia degli equivoci, da traggi comici. Se ieri sera era rimasto senza parole, è un fiume in piena oggi il sindaco Manildo sul caso Goldin. In una nota diffusa ieri in serata, il fondatore di Linea d'Ombra ha dichiarato concluse le trattative relative all'organizzazione della mostra-evento al Museo di Santa Caterina. Le cause? Un'ostilità ingiustificata e talvolta volgare, scrive Goldin, le troppe critiche e soprattutto la mancata concessione della fideiussione da 3 milioni di euro richiesta al consorzio marca Treviso. Ha aggiunto un avverbio nella nota definitivamente chiusa ogni trattativa. Questo non corrisponde a quanto io e il suo avvocato ci eravamo detti perché ci saremmo dovuti sentire lunedì io e il professor Domenichelli per trovare delle forme alternative di garanzia. Il resto Goldin lo dirà lunedì a Padova, nello studio del suo legale, dove ha convocato giornali e televisioni. Ascolterò con grande attenzione la conferenza stampa che sarà sicuramente più diffusa di un comunicato che Marco Goldin farà lunedì e poi potremo compiutamente parlare. Di certo, dice Manildo, il progetto dell'amministrazione di rilanciare la città anche attraverso la cultura non si ferma. Martedì incontrerà i componenti del consorzio, enti e categorie, si va avanti e con i lavori di Santa Caterina con o senza Goldin, anche se la speranza di un nuovo colpo di scena rimane. Io sono molto tranquillo che l'amministrazione ha fatto in questo caso qualcosa di veramente bello. È riuscita a aggregare attorno a un progetto, attorno a una visione, le categorie economiche, la città. Andiamo avanti su questa visione importante, è un progetto bellissimo e quindi io continuo a essere fiducioso che ci possa essere anche la strada con Marco possa continuare. Grazie a tutti.